Colpo di scena a uomini e donne, Tina Cipollari sta per diventare di nuovo tronista. Dopo la fine del matrimonio con Chico Nalli, la redazione di Maria De Filippi ha deciso di far scendere dei corteggiatori per la bionda opinionista. L'annuncio è apparso sui canali social del programma di Canale 5 e ha stupito tutti i telespettatori. In poche parole, Tina torna ad indossare per la seconda volta i panni della tronista. Un ruolo che aveva già ricoperto nell'edizione 2001-2002, dopo essere stata la corteggiatrice di Roberto, il primo tronista uomo del format Mediaset. All'epoca Tina aveva scelto Daniele, ma la storia è durata appena due settimane. Subito dopo la De Filippi la promossa opinionista e in queste vesti ha conquistato Chico, arrivato in trasmissione per corteggiare un'altra tronista. Con tutta probabilità i pretendenti di Tina Cipollari arriveranno al trono over di Uomini e donne. È in questo segmento che l'ex concorrente di Pechino expressa maggiore visibilità. I suoi continui litigi con Gemma Galgani appassionano il pubblico e la ricerca di un nuovo amore da parte dalla 500 alla 1 Tina creerà, senza ombra di dubbio, nuovi battibecchi e malumori. Senza contare che da giorni si parla di un presunto flirt tra la Cipollari e Giorgio Manetti, il cavaliere per il quale Gemma prova da sempre un forte sentimento. Insomma, ne vedremo delle belle nelle prossime puntate. Tina e Chico si sono lasciati dopo 16 anni insieme, di cui 13 da sposati. I due hanno tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiamo lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa, forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti e ha raccontato la Cipollari ha di più.